Tutte le tecnologie, chiaramente, quelle già in uso, quelle che stiamo sperimentando, quelle che dobbiamo ancora scoprire. Non parliamo solo di rinnovabili, parliamo di gas, parliamo di biocarburanti, di idrogeno, di cattura di anidride carbonica, parliamo di tecnologie che ci permettono di trasformare l'economia da lineare a circolare, di utilizzare gli scarti come materie prime, di rendere coltivabili i terreni marginali e non utilizzabili dall'agricoltura a fini alimentari, senza dimenticare la grande prospettiva, la grande visione, il grande sogno che deriva dalla possibilità di produrre in un futuro non così lontano energia pulita, ma soprattutto energia illimitata dal nucleare da fusione. L'Italia è chiaramente la patria di Enrico Fermi, su questo storicamente non è seconda a nessuno e grazie al know-how tecnologico del quale disponiamo, grazie alla nostra formazione accademica superiore, grazie all'attività di ricerca e sviluppo che viene portata avanti dai nostri centri d'eccellenza, dal nostro sistema produttivo, possiamo continuare a crescere, possiamo continuare a regalare al mondo nuove scoperte e un futuro migliore e diverso. Un ultimo punto che io vorrei toccare prima di lasciare poi la parola, chiaramente agli altri relatori, soprattutto ai ministri Bernini e Schillaci, che chiaramente entreranno poi nel dettaglio dell'azione che il Governo sta portando avanti, dei provvedimenti che abbiamo varato finora, chiaramente a sostegno del mondo scientifico. L'ultimo tema che vorrei toccare è un altro ambito del quale voi vi occupate del manifesto e al quale anche personalmente tengo molto, ve ne occupate quando parlate di società della conoscenza. È chiaramente l'ambito della formazione, ora voi lo sapete meglio di me, ma secondo uno studio della Banca Mondiale l'80% della ricchezza delle nazioni più avanzate e immateriale. E cioè una ricchezza rappresentata dal sapere.